Intervento dell'ambulanza di soccorso avanzato della Croce Rossa di Castellamonte e dell'elicottero del 118 ieri sera, venerdì 28 dicembre, a Cornier. Una donna di 58 anni si è sentita male mentre si trovava al ristorante Ramoverde. Sul posto è prontamente intervenuta la tango della Croce Rossa di Castellamonte che dopo aver stabilizzato la donna l'ha trasportata presso gli impianti sportivi. Dove ad attenderli c'era l'elicottero del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Molinetti di Torino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.